Ben trovati a tutti i telespettatori di Telenicosia, questa è la notizia flash provinciale del 10 ottobre curata dalla nostra redazione. Nella giornata del 9 ottobre la polizia ha arrestato il 25enne Mario Bonelli, il quale si è reso responsabile di un'estorsione in danno di un imprenditore edile impegnato in lavori in quel centro. Da diversi giorni il soggetto arrestato aveva avanzato pretesi di denaro nei confronti degli operai del cantiere, i quali fortemente intimoriti ne avevano dapprima dato notizie al proprio datore di lavoro e successivamente insieme a quest'ultimo si erano regati presso gli uffici della questura di Enna per sporgere denuncia. Prontamente i personali della squadra mobile di Enna e del commissario di pubblica eservezza di Nicosia avviano un'attività di indagine coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica del dottor Francesco Rio ad esito della quale si giungeva l'arresto in fragranza. Il giovane dopo aver concordato un incontro con il capocantiere della ditta si è recato ad intascare una prima tranche del denaro illecitamente richiesto all'imprenditore. Il giovane non poteva immaginare che ad attendere avrebbe trovato gli agenti opportunamente appostati all'interno del cantiere. Infatti appena intascata la busta contenente la somma di 2.000 euro a titolo di acconto rispetto ai 10.000 richiesti è scattata a fulminia l'azione dei poliziotti i quali hanno bloccato il soggetto traendolo in arresto. Dopo le incommensi di rito il Bonelli per disposizione del pubblico ministero del dottor Francesco Rio è stato condotto in stato di arresto presso la cassa circondariale di Enna. In ottobre presso l'assessorato regionale alla sanità è avvenuta l'audizione del sindaco di Leonforte Francesco Sinatra di Nistoria Armando Clorioso di Piazza Armerina, Filippo Miroddi e gli assessori Franco Palermo di Agira e Stella Spagnolo di Barra Franca rispettivamente in rappresentanza dei relativi sindaci. Maria Greco e Salvatore Lupo presenta l'assessore regionale alla salute Baldassarre Gucciardi che ha convocato i cinque rappresentanti istituzionali dei comuni dell'Ennese sulla spinta della mozione di sfiducia contro il direttore generale dell'Asp4 di Enna Giovanna Fidelio. Ad illustrare le richieste dei cinque sindaci del territorio è stato il primo cittadino di Leonforte Francesco Sinatra, deluso in merito alle promesse messe in campo negli anni scorsi dei precedenti dirigenti e degli assessori regionali alla sanità. Sostanzialmente, secondo i sindaci, il piano di riordino disattende le linee guida della normativa nazionale e regionale e non garantisce la salute dei cittadini nella provincia di Enna, in particolare per i cittadini di Leonforte e Piazza Armerina, ma nel complesso tutta la situazione della sanità provinciale che si viene a creare con questo nuovo atto aziendale mette seriamente a rischio il diritto alla salute di tutta la popolazione dell'ex provincia di Enna. Si contestano infatti i tagli di importanti reparti e lo smantellamento del pronto soccorso di Leonforte, soluzioni pasticciate proposte dall'attuale contestata direttrice generale e critica a cui non si sottraggono il direttore amministrativo Lanza e sanitario Cassara. Nell'incontro sono stati analizzati i conti generali dell'Asp4 di Enna insieme all'assessore e ai suoi collaboratori. I sindaci hanno insistito fortemente per la revoca immediata degli incarichi direttivi sia alla dirigente Giovanna Fidelio ed anche agli altri dirigenti amministrativo e sanitario, ritenuti inadeguati al compito preposto. Durante la riunione si è stigmatizzata tra l'altro una dichiarazione della dottoressa Fidelio in occasione della conferenza dei sindaci. La manager dell'Asp aveva infatti riferito erroneamente che il parere dei sindaci in merito all'atto aziendale non era obbligatorio in totale difformità con quanto prevede la legge. E' intervenuto la riunione telefonicamente, poiché assente per altri impegni il sindaco di Enna Maurizio Di Pietro, il quale si è schierato con i suoi colleghi che hanno proposto la sfiducia all'intera direzione sanitaria. L'assessore regionale della salute ha ascoltato attentamente le rimostranze e le osservazioni proposte dai sindaci, ha espresso perplessità nei confronti degli atti proposti in essere dalla direzione generale dell'Asp4 di Enna, ma si è riservato di parlare con il presidente della regione Rosario Crocetta sul quale grava la competenza per l'eventuale rimozione proposta e per le opportune valutazioni. Alla fine dell'incontro i sindaci si sono dichiarati soddisfatti per le parole della rassicurazione espresse dall'assessore regionale alla salute Baldo Cuicciardi, attento soprattutto alle motivazioni che hanno indotto i rappresentanti istituzionali dei cinque comuni a chiedere la sfiducia della dirigente dell'Asp4 di Enna. Nella mattinata dell'8 ottobre a Capizzi si è svolta una protesta studentesca contro l'amministrazione comunale che quest'anno non potrà garantire la gratuità degli abbonamenti dei pullman per condurre a scuola oltre un centinaio di studenti pendolari che frequentano gli istituti superiori di Nicosia all'inizio del mese. Di ottobre l'amministrazione aveva dichiarato di non avere i soldi per il pagamento di alcune fatture arretrate emesse dall'azienda di trasporti Interbus, la quale a sua volta non ha intenzione di dare ulteriore credito all'ente, prospettandosi così la probabilità che i genitori provvedono direttamente all'acquisto dell'abbonamento. Tanti ragazzi organizzati in un coordinamento si sono ritrovati in piazza San Giacomo a Capizzi con cartelloni accompagnando la loro protesta con urla e fischi e slogan rivolti contro il sindaco ed il comune. Nella facciata del palazzo che ospita l'aula consigliare è apparso anche uno striscione con una scritta emblematica, il silenzio degli ignoranti, la voce degli studenti. Diversi motivi per i quali è sfociata la protesta degli studenti capitini, innanzitutto la riduzione delle corse che l'azienda di trasporti Interbus ha ridotto da 3 ad 1. Questo taglio ha costretto molti ragazzi durante il viaggio a restare in piedi. Ma il nodo della questione è il costo degli abbonamenti. Quello mensile ammonta a 90,80 euro, una spesa enorme per chi ha in famiglia anche due o tre studenti. I ragazzi protesteranno altri due giorni affinché gli sia garantito il diritto allo studio. Sostanzialmente sono due le richieste degli studenti che l'amministrazione comunale collochi fra le priorità e il pagamento per intero degli abbonamenti agli studenti pendolari ed un incontro con la società che gestisce il trasporto pubblico al fine di trovare una soluzione anticipare i tesserini di abbonamento. Si è conclusa la lotteria di beneficenza per l'acquisto di una nuova ambulanza per la sede della Croce Rossa italiana di Nicosia. Il presidente del Comitato Provinciale Antonio Linsinga, insieme al responsabile della sede di Nicosia, l'ingegnere Francesco Miritello ed il responsabile dell'area 1, Fabio Di Costa dell'area 5, Giuseppe Rugolo ed in presenza del dottor Luigi Bonelli, sindaco di Nicosia e dell'assessore Ivan Bonomo, domenica 4 ottobre ha dato il via all'estrazione dei biglietti vincenti. I ringraziamenti, oltre che ai cittadini e agli illustri ospiti, vanno anche al signor Nunzio di Venezia, che ha sostenuto gran parte dei costi relativi alla rotteria. Il presidente ringrazia anche tutti gli sponsor e i commercianti che hanno donato i premi per l'estrazione, oltre che tutti i volontari impegnati in tale progetto. La sana giunta del Comune di Nicosia ha ospitato un interessante incontro organizzato dal CLESS, il centro di ricerca e studi sui problemi del lavoro, dell'economia e dello sviluppo, per porre le basi e costruire una governance territoriale nei 41 comuni dei Nebrodi, con l'obiettivo di dare risposta ai fai bisogni territoriali e rispondere in modo efficace alle nuove sfide dettate dalla programmazione europea 2014-2020. Sostanzialmente i consulenti durante questo tour informativo presso i comuni interessati stanno sollecitando i sindaci del PIST 20 Nebrodi Città Aperta nella redazione di progetti che rappresentano l'unica strada d'accesso ai finanziamenti che l'Unione Europea concederà per i prossimi anni. Il 17 agosto la regione Sicilia ha approvato il FESR, ovvero il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ed occorre muoversi immediatamente per capire cosa si deve fare e con chi. Muoversi da soli come Comune è totalmente impossibile e poco produttivo, occorre quindi far rete con gli altri comuni, associarsi e portare a casa risultati. Purtroppo a questa riunione non hanno partecipato i sindaci del circondario e questo non depone certamente positivamente per gli sviluppi futuri. Due sono gli strumenti attraverso i quali si possono ottenere finanziamenti europei. Da uno di questi Nicosia è stata stranamente esclusa, si tratta di quella relativa alle aree interne dell'isola. Nicosia non rientra nelle cinque aree del Calatino, Simeto Ettena, i 21 comuni di Nebrodi, Isicani e Le Madonie. Il secondo strumento è l'unico utilizzabile dal Comune di Nicosia, ovvero il CLLD, lo sviluppo locale di tipo partecipativo. Uno strumento per coinvolgere privati ed enti pubblici a livello locale nell'elaborazione di risposte alle varie problematiche sociali, ambientali ed economiche. Si prevede che il CLLD faciliterà un approccio integrato all'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei. In questa nuova programmazione dovranno trovare una ridefinizione i GAL, i gruppi di azione locale, non più visti come strumento di sviluppo rurale, ma anche come strumenti per la riqualificazione urbana. Un'altra parte dell'incontro è stata dedicata al focus group del progetto Nel Bosco in The Wood, attraverso il quale si intende dotare il territorio di una serie di servizi culturali e funzionali all'incremento turistico e nell'ottica di creare le condizioni per la costituzione del sistema locale turistico dei Nebrodi. I servizi culturali che si intendono implementare riguardano attività inerenti allo sviluppo di forme artistiche dell'arte contemporanea che hanno, quale tema conduttore, il valore del bosco come metafora di riscoperta dei segreti e delle radici del territorio culturale. Elemento comune dei 30 comuni aderenti al progetto Rete è proprio la presenza di uno dei più importanti boschi del Mediterraneo sul proprio territorio. I diversi laboratori sperimentali e creativi ispirati al bosco effettueranno con le supervisioni di esperti di caratura nazionale ed internazionale delle vere e proprie produzioni artistiche contemporanee nelle seguenti discipline. Land art, fotografia, musica live, cinema, arti performative, cucina, chilometri zero, design. Il progetto intende valorizzare inoltre l'identità locale fortemente integrata al contesto paesaggistico e agli spazi dedicati da destinare alla sperimentazione di laboratori creativi. Altrettanto importante è il coinvolgimento di artisti locali unitamente alla presenza di esponenti nazionali ed internazionali delle varie discipline nonché delle associazioni dedicate alla promozione delle diverse forme artistiche contemporanee. E con questo abbiamo concluso vi do appuntamento alla prossima edizione delle unizie flash curate dalla redazione di Telenicosia. Per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it Per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione chiocciolattelenicosia.it Un saluto da Sergio Leonardi Grazie a tutti.